Bene, allora adesso è il momento di Sofidel. Elena Faccio, responsabile della comunicazione di Sofidel in diretta da Luca. Buongiorno Elena. Buongiorno, buongiorno Cristina e grazie mille per questa opportunità, mi fa molto piacere. Il piacere è nostro anche perché so che Sofidel sta facendo veramente tanto per il pianeta. Di cosa vi occupate? Raccontiamolo brevemente ai ragazzi e che cosa state facendo per preservare il suolo e il pianeta. Allora, Sofidel è uno dei principali produttori in Europa di carta tissue. Che cosa significa? Carta igienica, fazzoletti, asciugatutto per la cucina. È un'azienda che ha poco più di 50 anni e in questi 50 anni è diventato il player più importante in Italia e il secondo player in Europa. Il nostro naturalmente è un business che ha un impatto importante sul pianeta perché siamo utilizzatori di risorse naturali, utilizziamo gli alberi per fare la carta, naturalmente sono indispensabili, utilizziamo acqua e siamo un'azienda energivora perché per asciugare la carta ci vuole molto calore. Che cosa facciamo? Da diversi anni ormai, abbiamo iniziato nel 2008-2009, abbiamo iniziato a lavorare con WWF che sono stati fondamentali per noi. Innanzitutto ci hanno permesso di renderci conto di qual era l'impatto che avevamo sul pianeta e soprattutto di quello che dovevamo fare per ridurre l'uso delle risorse, dell'uso di energia. Sono stati fondamentali, ci hanno spronato, sono stati veramente un grande stimolo. Noi in particolare lavoriamo in quattro direzioni. La prima è combattere il cambiamento climatico che per noi significa sì rendere più efficienti i nostri processi industriali per usare meno energia, ma soprattutto utilizzare sempre di più energia rinnovabile. Abbiamo già alcuni impianti, ad esempio in Spagna, che funzionano completamente con energia rinnovabile. Poi lavoriamo per ridurre i consumi idrici. Posso dire con orgoglio che siamo l'azienda nel nostro settore che ha il consumo d'acqua più ridotto, questo a livello mondiale, e abbiamo raggiunto ormai un tasso di riciclo del 96%. Poi lavoriamo tantissimo per ridurre l'uso di plastica nelle nostre confezioni. Abbiamo un obiettivo al 2030 di ridurre l'uso di plastica del 50%. Lo facciamo innanzitutto, abbiamo introdotto, siamo stati i primi, le confezioni in carta e poi naturalmente utilizzando bioplastica e plastica riciclata. E poi l'altro ambito in cui lavoriamo è quello dell'approvvigionamento della risorsa forestale. Allora, tutta la cellulosa che noi utilizziamo è certificata al 100%. Che cosa significa questo? Significa che noi siamo in grado per ogni rotolo di carta igienica di risalire alla pianta da cui la cellulosa proviene e a monitorare che assolutamente in tutto il nostro processo produttivo non ci sia commercio illegale di legno, uso di legno che proviene da zone di deforestazione. E questo per noi è fondamentale perché permette davvero di salvaguardare la biodiversità del pianeta. Guarda, credo che sia un interessante esempio di come le aziende sono in transizione ecologica. Perché i vostri prodotti li usiamo tutti i giorni, però dobbiamo capire dietro che cosa c'è, qual è il sistema. Per ovviamente tenere a bada la nostra impronta e lo state facendo. Grazie Elena, so che voi avete una menzione speciale all'interno del Planet Earth Camp. Quindi per voi quale sarà l'opera migliore? Quella che? Allora, noi sì abbiamo questa menzione speciale per la salvaguardia dei boschi e della foresta. Per noi l'opera migliore sarà quella che riesce a trasmettere il fatto che l'uomo è parte della natura, è natura. La natura è una rete di viventi, siamo tutti interconnessi per la nostra salute, per il nostro benessere, ma anche per il futuro dell'umanità. È fondamentale che noi riusciamo a vivere nella natura rispettando i suoi equilibri, rispettando gli ecosistemi naturali. L'opera riuscirà a trasmettere questo, per me sarà super. Super, e vincerà e potrete magari installarla da voi a Lucca. Bene, allora lasciamo creare ai ragazzi e noi ci sentiamo presto. Grazie Elena. Grazie, grazie e in bocca al lupo ai ragazzi. Grazie.